... Finalmente i dromedari torneranno in San Rossore, grazie alla collaborazione tra Ente Parco e Scouta Gesci, attualmente ospiti della riserva. Il tema di questo nostro incontro è il coraggio. Noi crediamo che dobbiamo avere anche il coraggio di sapere da dove veniamo. Riportare un pezzo di storia a San Rossore per noi è una cosa estremamente importante. Ringraziamo il Parco Le Cornelle di Bergamo che ci ha aiutato in questa impresa. Mancavano dalla metà degli anni 70 i dromedari e sono stati i beniamini della tenuta fin dal 1600, quando vennero introdotti per la prima volta. Oggi arriva il nuovo tentativo e la dirigenza del Parco, che in tal senso aveva già preso impegni precisi, è entusiasta. Lo slogan è la storia torna a San Rossore, perché questa è una presenza plurisecolare che ha caratterizzato la vita della tenuta e della città, come testimoniano le stampe che ritraggono i dromedari qui davanti alla torre come facciamo oggi. Quindi è un ritorno che racconta la storia di San Rossore e che ci disegna anche il futuro, perché useremo questi animali per attività di ripristino ambientale, di rimozione dei rifiuti e di fruizione sostenibile della tenuta attraverso visite guidate a dorso di idromedario. E' un'altra cosa che ci ha offerto questa opportunità, donandoci questi animali, per ricominciare una storia che si era interrotta qualche decennio fa.